Sette punti da qui a Natale. Nicola Mingazzini traccia la tabella dei prossimi impegni dei Rossoblu, mette sul tavolo la forza della squadra e appoggia Capitan Di Vaio nel recente giudizio su Papadopulo. In primo piano anche la situazione della difesa, che nell'ultimo periodo ha ripreso a subire troppi gol. Corriere dello Sport Stadio. Bologna, processo alla difesa. Ecco i numeri. Fin qua il Bologna ha subito 21 gol, dei quali solo 5 nelle prime 6 partite. L'andazzo è cambiato da Bologna Genoa in avanti, perché da quel giorno i Rossoblu hanno rimediato 17 gol nelle altre 7 partite disputate. Il Bologna è passato per quanto riguarda i gol subiti da una media partita di 0,83 a una di 2,29. Bisogna dire che sembra essersi smarrito Portanova, di cui il Bologna ha bisogno come il pane, anche perché quando Portanova gioca secondo le sue potenzialità anche Britos ne trae un grande beneficio. È difficile capire perché Portanova stia facendo fatica, nonostante la sua esperienza, ma una cosa è certa. Colomba e la squadra continuano a ritenerlo un punto di riferimento fondamentale sia in campo che negli spogliatoi. Errori individuali a parte, va detto che il Bologna deve ritrovare i giusti equilibri tra i reparti. Il discorso è, quando giochi con due punte e un trequartista puoi sacrificarti quanto vuoi ma difficilmente riesci ad assicurare le giuste coperture nella fase di contenimento, soprattutto contro le squadre organizzate, vedi Genoa, Sampdoria e Napoli, e le grandi, vedi l'Inter, e soprattutto sulle fasce dove i centrocampisti devono buttarsi per rincorrere gli esterni degli altri che avanzano. E' proprio sui lati che il Bologna deve trovare la quadratura del cerchio, perché quando i rosso-blu sono attaccati centralmente riescono sempre a farsi valere e a rispettare, i problemi cominciano, appunto, quando gli avversari sfruttano l'ampiezza del campo e giocano larghi. Ecco il motivo per il quale Colomba sarà chiamato a lavorare su questo fronte nel corso della settimana, considerato che sui lati la Lazio ha uomini che sanno incidere, a cominciare da Foggia e Kolarov. 7 punti da qui a Natale Nicola Mingazzini è uno che bada i fatti, sia quando gioca che quando parla. Ed è per questo motivo che, gira e rigira, tutti gli allenatori gli trovano uno spazio, nonostante abbiano in organico uomini con più nome e passato. Penso che contro l'Inter la squadra abbia fatto buone cose, ma ora siamo di nuovo terzultimi, e allora tutto il resto non conta. Da qui alla sosta di Natale dobbiamo pensare solo a fare punti, a cominciare da domenica contro la Lazio. Sta passando un brutto periodo, a Napoli ha cercato di portare via un punto e c'è riuscita, e noi dobbiamo provare ad approfittarne. Fin qua il Bologna ha sempre fatto ritrovare le squadre in difficoltà, vedi la Roma, guai se accadesse di nuovo, anche perché la classifica oggi dice che Lazio-Bologna è uno scontro diretto per la salvezza. Bisogna invertire la tendenza, ripeto che bisogna fare punti a Roma. L'aspetto positivo è che stiamo giocando e correndo, ora lavoriamo bene durante la settimana e la domenica si vede il frutto di questo lavoro, ma non dimentico che siamo con l'acqua alla gola, e di conseguenza non possiamo permetterci di sbagliare neanche una partita prima della sosta e secondo me ce le possiamo giocare tutte. Mingazzini, ha letto cosa ha detto Divaio sul conto di Papadopulo e cioè che è stato commesso un errore di valutazione con l'allenatore, come testimonia nei risultati, e lo stiamo ancora pagando. La sua risposta, certo che ho letto. E lei la pensa come Divaio? La risposta di Mingazzini è secca, sì. Torniamo a oggi, al presente e al primo pezzo degli domani. Da qui a Natale firmerei per fare 7 punti, arriveremmo a quota 19 e a quel punto ci sarebbero ancora da giocare due partite alla nostra portata prima dell'inizio del girone di ritorno. Tra le squadre che sono a 12 punti, la Lazio è quella che ha i valori maggiori, poi penso che subito dietro ci sia il Bologna. Avete capito bene, secondo me siamo superiori alle altre. Se Chievo e Bari potrebbero ridimensionarsi a gioco a lungo? Dico solo che vorrei essere al loro posto, essendosi creati un bel gruzzoletto di punti per passare bene almeno l'inverno. Ultimo punto. Non le sembra troppo rischioso questo 4-3-1-2? Come Divaio, Mingazzini non lo boccia. Ci dà soddisfazioni e ci aggiunge imprevedibilità in attacco, sabato siamo andati in gol con due passaggi, e allora al di là della sconfitta e dei sacrifici che tutti noi siamo chiamati a fare, lo vedo bene, anche perché di fronte non hai tutte le domeniche l'Inter. Il resto del Carlino. Il metodo Colomba paga? In casa Lazio la prova verità. A Colomba si potrebbe rimproverare di aver osato troppo con l'Inter, distogliendo così i suoi dalla necessità di giocare una gara arcigna, stando addosso agli avversari dal primo all'ultimo minuto. Sarebbe tempo perso. Da ieri da il Bologna ha sempre boccato il gol della sconfitta, anche quando ha alzato le barricate. L'allenatore di oggi non è né visionario né suicida e qualche calcolo, prima di scegliere la strategia da adottare con l'Inter, lo avrà pur fatto. Probabilmente di questo genere. Al processo di crescita si può imporre una fermata se snaturarsi garantisce un risultato, ma se giochi contro chi, a occhio e croce, ti batterebbe comunque, tanto vale prendersi qualche rischio e sognare il bottino è pieno. Il Bologna di Arrigoni stava a metà strada tra la prudenza e la proposizione come, più o meno, quello di Mihailovic. Quello di Papadopulo era prudentissimo e quello di Colomba è di segno opposto, cioè tende alla spregiudicatezza tattica. Tre esperimenti su quattro sono falliti. Una sconfitta in Casa Lazio potrebbe ingenerare il dubbio che neppure questo nuovo metodo sia abbastanza efficace. E sarebbe grave se il Bologna pensasse che, dopo aver sperimentato tutti i sistemi di lavoro possibili, non ce ne sia uno che lo tenga al riparo dal rischio di retrocessione. La presa di coscienza dell'inadeguatezza assoluta evoca lo spettro della rassegnazione. Per questo il Bologna deve cominciare a correre subito. Moras in dubbio per l'Olimpico. Moras dov'è? Non in campo, dove ieri il Bologna ha ricominciato a sudare dopo essere rimasto chiuso nello spogliatoio per mezz'ora ascoltando Francesco Maglione. Il greco candidato a dare il cambio in difesa a Britos domenica all'Olimpico è ancora alle prese con la contusione al ginocchio souvenir del doppio impegno con la sua nazionale. Sul suo pieno recupero Colomba e lo staff si dicono ottimisti, ma il dubbio resta e forse uno snodo decisivo in tal senso sarà a test con l'Ozzanese in programma domani, ore 14.30, a Ozzano Emilia. Nell'attesa devono fare conti con l'influenza sia tedesco che valiani. Il primo è a letto da quattro giorni, il secondo è stato contagiato più di recente. Colomba si consola con Appia, che è vivo e vegeto ancorché in attesa del tanto sospirato transfer. Ogni momento è buono, fa sapere il Bologna, che sotto sotto coda la speranza di farlo accomodare addirittura sulla panchina dell'Olimpico. La Repubblica Il caso Bologna Il rosso blu Tutta colpa di Papadopulo Da divaio in giù, l'ultima moda a Casteldebole L'ex tecnico nel mirino La polemica La provincia sul nuovo stadio Da Menarini nessun progetto Il geometra aveva detto di averne già presentato uno Il Corriere della Sera di Bologna La scalata a quota 20 E l'obiettivo di Colomba che a fine andata varrebbe una mezza salvezza servono 8 punti E il calendario potrebbe favorire le strategie rosso-blu Adesso Salvatori setaccia il mercato inglese La squadra di S è in missione all'estero per i rinforzi di gennaio Senza conseguenza i fischi a Balotelli L'informazione è il domani Il regalo di Natale 7 punti Mingazzini è sicuro Sono quelli che ci servono nelle prossime quattro partite Se arrivano, siamo in media a salvezza Non si può più sbagliare Ha ragione di vaio Il modulo ci aiuta Errore di valutazione la conferma estiva di Papadopulo Mercato Osvaldo, niente sirene inglesi Il West Ham dice no Nani, di T della squadra di Zola Lo abbiamo seguito l'anno scorso, ora non rientra nei piani Mora Salla e K, ma a fine stagione Piace Molinaro Casarini finirà in prestito tra i cadetti La situazione Anche Bagliani copre l'influenza La Lazio vuole recuperare le Desma Cruz, tre giornate Rocchi Zarate